musica bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia mamma mia quante news ci sta rilasciando questa stagione numero 5 ragazzi veramente incredibile quante nuove location quanti nuovi oggetti qua addirittura ci sono i nuovi giocattoli ragazzi guarda qua la palla da da volleyball che va in giro ragazzi sbloccheremo anche questo lo possiamo portare in giro no purtroppo non possiamo sì possiamo portarla in giro l'ignoranza regna sovrana ragazzi sapete abbiamo anche la nuovissima skin tipo quella dello spaccatutto da sbloccare nella settimana numero 7 di questa season quindi io voglio darvi una mano come al solito a completare al meglio tutte le sfide di tutte le settimane e oggi parliamo ragazzi della stella segreta della sfida della prima settimana dove dobbiamo cercare la stella appunto nella mappa trovata se non ricordo male rapide rischiose morale della fava che è sempre del fagiolo e poi del cecio della favola la stellina ragazzi si trova verso tomato town come vedete c'è già qualcuno che sta facendo la mia stessa missione dobbiamo senza nessun problema raga scendere no lui non scende qua nel bordo che c'è sopra il tunnel della nostra amata tomato town ragazzi attenzione così ci avviciniamo ecco qui la stella lui se ne va ci lascia perdere ragazzi e come vedete la prima stellina della prima settimana è recuperata ragazzi direi di suicidarci con tanta pazienza vediamo se mi suicidi se mi uccide il tipo uccidimi 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 ma perché non mi devi uccidere vieni qui vieni qua ma devo morire perché se se non ti fai uccidere se non ti fai uccidere non ti dà la stellina ma venga qui venga vieni qui sarai difficile non mi dare la legna vieni qui devo fare un video e c'è uno che non mi uccida vediamo se c'è un altro che può se veramente una roba uno che mi uccida c'è per favore per favore qua c'è uno ok grazie 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 a dio grazie a dio andiamo ragazzi a prenderci dieci stelline del pass battaglia che vuol dire un livello e sbloccheremo il nuovo prot delta pleno tre livelli sbloccati come oggetto uno di tre hai aggiunto il livello 8 con le corna ma perché è sul gulo il nuovo standard col carrello beh ragazzi direi che livello siamo su me lo 5 siamo con questa ragazzi chiusura del pass battaglia io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video prendete anche voi la stellina noi ci vediamo in live ciao ciao